La azienda dei buoni pasto cartacei ad azienda che si occupa del benessere delle persone che lavorano per esperienze full digital. Parliamo del nuovo posizionamento Edenred con Stefania Rausa, direttore marketing e comunicazione e con Giulio Siniscalco, direttore commerciale. Partiamo dall'effetto della pandemia. Abbiamo assistito a un vero e proprio cambiamento culturale con un'accelerazione pazzesca negli ultimi mesi che purtroppo la pandemia ha creato e ha portato poi nella vita vera a delle cose diverse rispetto a quelle che succedevano prima. Questo lo vediamo quotidianamente nelle abitudini di consumo dei nostri utilizzatori, delle persone che hanno in mano i nostri ticket restaurant. Noi siamo cambiati culturalmente anche come azienda. Prima noi distribuivamo ticket restaurant di carta, quindi foglietti di carta che venivano utilizzati per andare a pranzo per banalizzare il concetto. Adesso ci siamo trasformati e siamo in un processo di fortissimo cambiamento e consegniamo, deliveriamo esperienze che sono esperienze full digital, completamente digitali. Quindi tutto ciò che prima passava attraverso la carta, attraverso una gestualità di un certo tipo, ora è diventato completamente mobile e avviene tutto sul cellulare e online. Questo dietro rispecchia dei cambiamenti forti anche nelle abitudini di vita delle persone. Hanno cambiato proprio il loro comportamento durante la pausa pranzo e la pandemia è stata assolutamente un acceleratore. Quindi un tempo si usciva, si andava fuori tutti quanti tradizionalmente dall'1 alle 2, si andava nei bar, si andava nei ristoranti. Oggi stando a casa i comportamenti sono cambiati. Si esce magari lo stesso, magari si va lo stesso al ristorante, si sceglie quello vicino a casa, quindi ristoranti nel quartiere, nella propria zona dove si vive, quindi non più nei centri direzionali dove le persone lavorano, ma anche una flessibilità di orario. Magari non si fa più pausa pranzo dall'1 alle 2, ma quando si vuole e magari si ordina il pasto. E quindi il boom del food delivery non solo nei momenti ludici, quindi nei momenti dedicati, non so, alla cena con gli amici, ma anche nei momenti lavorativi e a casa. Quindi da qui la nascita anche di merchant, quindi di soluzioni di ristorazione diverse. Sono nate le cosiddette dark kitchen, ovvero delle soluzioni, quindi della nuova imprenditoria dedicata solamente al delivery, quindi non più con la somministrazione, ma solo la preparazione del pasto e la consegna. Sono tutte iniziative nuove che sono state accelerate dal cambiamento culturale, che hanno permesso l'accesso al mondo del lavoro anche di persone che non potevano permettersi di fare la scelta imprenditoriale di aprire un locale. Quindi tutto questo cambiamento che noi abbiamo visto è un po' di anni che questo cambiamento in atto è stato completamente accelerato dalla pandemia. E noi ci siamo dovuti adeguare. Abbiamo anche noi dato un boost, una spinta all'accelerazione, a quello che è il nostro cambiamento. E da qui la nostra nuova modalità di essere presenti sul mercato, che è quello che noi chiamiamo full digital, ovvero abbiamo fatto diventare tutto ciò che sono i nostri processi digitali. Quindi un tempo comunque dall'acquisto del buono pasto fino al rimborso del buono pasto c'era ancora tutta una parte di processi old style. Abbiamo completamente cambiato pelle e tutto ciò è diventato completamente digital. Quindi end to end, dall'acquisto del buono pasto fino al rimborso in un click. E questo è stato per noi un acceleratore molto importante che la pandemia comunque ci ha costretto a fare. Entriamo quindi nel merito dell'innovazione tecnologica e di prodotto. Eder Red ha l'innovazione del proprio DNA. Ha inventato il Ticket Restaurant più di 40 anni fa, ha lanciato il Ticket Restaurant Nel cliente elettronico più di 15 anni fa, noi avevamo il buono pasto a bordo di una card. Abbiamo per primi lanciato un'app che non solo consentisse di essere utilizzata come store locator piuttosto che per vedere il saldo e la ricarica dei buoni, ma consentisse il pagamento presso i merchant. E l'anno scorso, nel periodo pandemico, quando il distanziamento sociale ha fatto diventare dei bisogni che già esistevano all'interno dei clienti ancora più impellenti, abbiamo lanciato il Ticket Restaurant Full Mobile. Ticket Restaurant Full Mobile quindi totalmente cardless, quindi una soluzione che nasce digitale anche all'interno del suo processo di vendita e non prevede nessun tipo di scambio fisico tra noi e le nostre aziende clienti, che consentisse sia ai clienti ma soprattutto agli utilizzatori di usufruire di nuovi tipi di servizi. Il nostro guardare al digitale è guardarlo in maniera funzionale per far sì che clienti e utilizzatori possano godere di esperienze sempre più ricche. Oggi cosa consente nel concreto un Ticket Restaurant Full Mobile? Consente ad esempio di usufruire di servizi di delivery che attraverso il Ticket Restaurant Cartaceo o tramite card non erano accessibili. Sappiamo quanto il delivery sia stato importante durante il lockdown e sappiamo altrettanto quanto è rimasto seppur in misura minore all'interno delle abitudini di consumo degli italiani e di conseguenza dei nostri utilizzatori. Questo processo di digitalizzazione in parallelo l'abbiamo portato su tutte le nostre soluzioni anche il Ticket Compliments che è il nostro gift voucher, un buono multi brand che non è focalizzato quindi all'interno del mondo del food ma permette una spendibilità in tutte le categorie merceologiche oggi è diventato My Head Red Shopping. Cos'è? È un wallet che risiede all'interno di un'app scaricabile appunto su qualsiasi smartphone e consente di essere utilizzato in maniera totalmente digitale con un'esperienza estremamente semplice e gratificante per i nostri utilizzatori. Tutte le nostre soluzioni oggi mantengono comunque più media, quindi più supporti perché da un lato noi vediamo il digitale assolutamente funzionale a far godere di queste nuove esperienze ai nostri utilizzatori. Il digitale ci dà opportunità che il cartaceo piuttosto che un supporto plastica non può offrire ma dall'altro manteniamo all'interno del nostro portafoglio tutto il range di prodotti per rispondere comunque a esigenze che possono essere diverse da parte delle aziende. Al centro i comportamenti dei consumatori, intesi però come individui che operano in contesti sociali ed economici, cioè nel territorio. Il tutto ragionato in ottica win-win. Ci raccontate il progetto Restart? Il progetto Restart nasce come reazione velocissima a quello che è successo durante la pandemia ovvero i nostri merchant chiusi e quindi tantissimi imprenditori in difficoltà. A livello mondo il nostro gruppo ha deciso di destinare un fondo chiamato More Than Ever e in questo fondo sono andati a conferire una serie di tanti soldi, soldi che arrivano anche dagli stipendi dei nostri top manager a Parigi che in questo periodo hanno deciso di tagliarsi una quota di retribuzione proprio per destinarla a questo fondo d'aiuto, per aiutare. E come ogni paese abbiamo deciso di destinare una parte di questo fondo, anzi gran parte di questo fondo alla nostra rete, quindi ai nostri merchant nel periodo della pandemia, subito durante e anche in ripresa, quindi subito in uscita. Allora che cosa abbiamo fatto? Il concetto di base è che questo fondo lo abbiamo destinato per aumentare il potere d'acquisto degli utilizzatori finali. Quindi abbiamo stimolato in vario modo gli utilizzatori finali a comprare dai merchant. Quindi durante il lockdown, grazie ai servizi di delivery, quindi il nostro messaggio era caro utilizzatore, ordina presso i merchant, fatti consegnare il cibo a casa, noi ti diamo un aumento di potere d'acquisto, anche consistente, di 15 euro e così sosteniamo la ristorazione in questo momento di difficoltà. Con l'e-commerce, stessa cosa con l'e-commerce, quindi anziché ordinare il pasto pronto, ordina ad esempio la spesa piuttosto che la lunchbox o alcune soluzioni un po' innovative, stile NutriBees, quindi dei pasti preconfezionati ma con un target specifico. Quindi tutto il settore dell'e-commerce ordina e-commerce e anche qui ricevi un aumento di potere d'acquisto, sempre di 15 euro e subito dopo la riapertura abbiamo anche qui indirizzato gli utilizzatori verso i merchant di nuovo, quindi cercando di rigenerare un po' di quello store traffic che serviva loro per ripartire, anche qui con un aumento di potere d'acquisto. Quindi abbiamo utilizzato questo fondo per spingere gli utilizzatori a consumare, a tornare nei punti vendita con un incentivo economico. Diciamo che è stata un'iniziativa che ci ha soddisfatto molto, noi abbiamo una misura che si chiama MPS, Net Promoter Score, quindi andiamo a cercare di capire la percezione dei nostri stakeholder principali, quindi in questo caso dei nostri merchant, dei nostri bar e ristoratori e durante questo periodo questo MPS è cresciuto, è raddoppiato, quindi diciamo che abbiamo ritrovato un po' del piacere di relazionarci con i nostri merchant in un momento così critico e siamo riusciti un attimo ad andare incontro alle loro esigenze. Per noi questo è stato molto importante perché pensiamo di essere prima di tutto un partner nei confronti della nostra rete, questo è stato l'esempio concreto. Due sedi principali, una Roma, una Milano, nove filiali e cento venditori sparsi in tutto il territorio nazionale. Un'azienda, la vostra, che amava definirsi della stretta di mano, ma in epoca di pandemia cos'è successo? Cosa è successo? Che nel 2020 dall'oggi al domani ci siamo ritrovati da essere presenti negli uffici di tantissime aziende in Italia, nostri clienti o i prospect, quindi le aziende che ancora non ci avevano scelto, a essere in casa davanti a uno schermo. La prima tentazione è stata, abbiamo una dotazione tecnologica che ci consente di arrivare ovunque, quindi abbiamo Teams, abbiamo Google Meet, abbiamo Skype, continuiamo a fare quello che facevamo prima a distanza. In realtà non è proprio così, ci siamo da subito accorti che i tempi di un incontro virtuale rispetto a un incontro fisico a disposizione erano estremamente inferiori. il cliente, ma anche il prospect, è molto meno disposto a darti lo stesso tempo che ti dava prima. La difficoltà di creare quell'intimasi che una stretta di mano, un caffè preso prima di un incontro consentiva, era molto più difficile da ricostruire. Che abbiamo fatto? Abbiamo capito veramente molto presto che era fondamentale per noi rivedere tutto il customer journey con i nostri clienti e soprattutto nella fase di acquisition dei clienti, quella fase che noi chiamiamo di engagement, che è fondamentale, quella di ingaggiare il cliente, far capire lui il valore delle nostre soluzioni e poi iniziare una vera e propria negoziazione. Abbiamo quindi anche con l'aiuto di consulenti esterni riguardato tutto il nostro customer journey, abbiamo visto quali erano i touch point fondamentali e quindi ci siamo concentrati sull'ingaggio. Abbiamo quindi rivisto e ottimizzato tutti i nostri materiali di vendita per una fruizione appunto screen to screen ottimale. Abbiamo creato dei video di presentazione di tutta la nostra forza vendita che potessero essere inviati al prospect per avere una presentazione anche un po' più informale diciamo del commerciale che poi li avrebbe contattati. Abbiamo rivisto in generale tutti i nostri materiali video anche delle nostre soluzioni e soprattutto abbiamo formato la nostra forza vendita per cercare di mantenere soprattutto quel calore appunto che normalmente si riesce a creare in un incontro fisico e che è molto più difficile in un incontro attraverso uno schermo. Devo dire che lo sforzo è stato elevato sia in fase di preparazione e di creazione di questo nuovo customer journey di tutti i materiali sottostanti ma la risposta è la forza vendita è stata assolutamente eccellente. Abbiamo rivalutato anche tutto il processo di social selling al quale ci eravamo affacciati ma l'utilizzo dei social media e soprattutto di LinkedIn è diventato molto più parte del DNA dei nostri commerciali. Questo fa sì che oggi noi abbiamo la capacità di mantenere una realtà ibrida quindi FIGITAL come oggi è diventato di moda dire dove per fortuna la riapertura sta rifavorendo l'incontro con i clienti e con i prospect e soprattutto nella fase iniziale noi consideriamo questa una ricchezza ma dall'altro lato siamo assolutamente in grado di portare avanti in maniera assolutamente efficace e probabilmente in maniera più efficiente di prima perché si ottimizzano tempi di trasferta e quindi possiamo fare più appuntamenti con i nostri clienti soprattutto in una fase un po' più operativa dove è meno necessario casomai avere un incontro fisico. Il futuro noi appunto lo vediamo un mix di queste due componenti quindi la nostra abilità deve essere quella di coniugare le buone cose che abbiamo imparato a fare mantenendo le cose buone che facevamo prima sicuramente oggi c'è una voglia di ritornare ad incontrarsi i commerciali per definizione sono abituati a vivere la strada a vivere le aziende e questa è una ricchezza che vogliamo mantenere dall'altro lato l'opportunità che ci ha dato il digitale e quello che abbiamo imparato è un ulteriore bagaglio che ci portiamo dietro per essere ancora più efficaci nel nostro futuro. Il futuro, quali le prospettive? Ovviamente si va verso il digitale quindi le prospettive sono sempre più quelle di avere esperienze per le persone che siano appaganti, che siano brividose, che siano divertenti, che siano belle, che siano veramente memorabili e quindi lo sforzo da parte nostra di andare a capire come sviluppare le nostre esperienze, quindi come sviluppare le nostre app in una direzione che sarà sempre di più seamless, cioè l'idea è di avere l'interfaccia che non esiste, che è la migliore interfaccia, quindi lo sforzo di semplificare, ecco quindi tantissima evoluzione concettuale nel nostro modo di pensare a quelle che sono le nostre esperienze, quindi stiamo diventando un'azienda completamente digitale e poi il futuro per noi è di espansione. Noi crediamo che il benessere nel mondo lavorativo sia un diritto di tutti quanti. Oggi le aziende che credono fermamente nell'implementare delle soluzioni di benessere, di welfare all'interno delle aziende sono ancora poche dal nostro punto di vista e quindi noi crediamo nella divulgazione culturale di questo modello, perché dove ci sono persone soddisfatte, entusiaste, grintose verso il proprio lavoro, la produttività aumenta, quindi non è solamente una questione di benessere vecchio stile, è un attaccamento alla maglia, quindi nel momento in cui le persone credono e riconoscono che l'azienda investe nei loro confronti sviluppano un attaccamento all'azienda molto più forte con una produttività molto più alta e un tempo la vera retribuzione era il denaro, oggi la vera retribuzione è il tempo libero oltre al denaro e quindi il fatto di semplificare la vita alle persone crediamo che possa essere veramente innovazione e futuro.